La Marano dice che non governerà mai con lei e io dico ma che scema allora vuole fare governare la destra, mica le ho detto che è scema. Naturalmente siccome Fava piace molto trovare sempre l'argomentazione per cui può fare succedere, assolutamente se si sente offesa le manterò formalmente un mazzo di rose. Quindi è pronta un'alleanza post voto con la Marano? Se prendono il quorum per la regionale siciliana spero che riescano a prenderlo, è chiaro che noi, a chi debba guardare. Il fatto che adesso la procura finalmente abbia detto che in cabagna elettorale hanno intercettato già elementi di Cosa Nostra che contrattano con alcuni candidati per offrire loro il sostegno, è bello, è buono e spero che chi sta facendo queste cose assolutamente si blocchi perché l'obiettivo nostro è quello di fare un'azione preventiva. Spero veramente che questa volta la mafia possa essere sconfitta. Data Monitor oggi la sua lista la dà al 6%, è il primo dato ufficiale sulla sua lista probabilmente? Ancora non abbiamo iniziato la campagna elettorale, ancora non c'è l'effetto dei candidati, per questo io dico. Già nessun presidente della regione ha avuto data fino ad ora una lista al 6% appena parte e questo dovrebbe fare riflettere che il voto di opinione alla fine coinforgerà su crocetta. Miciche quanto chiedeva la candidatura al Polo aveva rassicurato il PDL che era interessato esclusivamente a questa questione dei 450 miliardi di termovalorizzatori che lui gli dava la garanzia che le aveva fatte e queste garanzie le aveva date a Pino Firladello e a Saverio Romano. Ora se lui si vuole querelare lo faccia pure, non capito quale sarebbe la materia della querela visto che l'ha detto Musumeci che voglio dire. Io porterò domenica le prove e scoprirete anche tante altre cose, non solo queste cose che già mi sento di anticipare. Ora che Musumeci non sappia quello che vuole il suo partito mi pare sinceramente un po' strano, può essere vero per carità. Allora se è inconsapevole, si è fatto un'alleanza con chi lo vuole portare in cose che sono terribili, se lo sa accetta pure lui. Vuol dire che ha accettato pure lui il gioco. Dove sono i termini di una querela? Grazie. 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 Grazie.